Massimo D'Alema presente a Il Vertice della Fauna. Parliamo sempre del polo, dell'intesa con il polo, di tutti questi argomenti abbastanza futili rispetto al tema di questa giornata, e cioè il fatto che ci sono 800 milioni di persone, tra cui 200 milioni di bambini che non hanno da mangiare, diciamo. È importante anche questo, però è vero anche che un milione di persone sono scese in piazza per protestare contro il governo? Sì, ma quelli hanno da mangiare, è una situazione meno drammatica, diciamo. Tutta l'Europa, di fronte alle difficili scelte per la moneta unica, vive momenti di turbamento sociale, niente di speciale.